Soltanto da alcuni eventi E poi mi piace di più Comunque da notare le nostre mastery Cioè abbiamo 4 mastery 7 e una mastery 6 Cioè facciamo vedere che siamo main cazzo Si raga ma perchè la gente si stupisce quando vede un honor livello 4 non capisco Io non ho un cazzo perchè gioco 50 count e ci credo che Che non mi sale ma non mi interessa nemmeno Non mi frega proprio un cazzo A me basta avere quella del 3 perchè sennò non ti danno le rewards a fine season Cosa ti danno a fine season? Quelle che ti davano prima se sei di gold Gold più Ah quindi la skin Si se non sei honor 3 non te la danno Qua c'è stato l'anno scorso non mi ricordo Mi ricordo Eh si ma quale? Maukay era? Yes Non era season 5 No No Season 5 era Sibir E season 4 ti ricordi? Elijah Ah e io le ho avute tutte e tre Perchè Dalla prima season che ho giocato Cioè season 4 ero già gold Ah Aspetta Sfigati Io ero già gold dalla prima season che ho giocato E n'era anche un'altra però Boh non mi ricordo C'era già Arvan e Jan ma non mi ricordo in quale season sono state date E' la 1 e la 2 Ciao burro E in 3 cosa è andato? Te lo ricordi? Eh quella che non mi ricordo Cos'è andato in season 3 ragazzi? Qualcuno lo sa? Ah Morgana 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 Ah ecco perchè infatti Vedo che c'è Morgana Anni mi ha tirato un attacco base dai è già un pull Assomiglia già ad un pull Si ha tirato un attacco base a un minion piccolo E l'eyes Mmm Prego a stilarle red Anche se l'ho fatto abbastanza lentamente il giro di giungla quindi Non penso ce la farò Ma ci si prova Al massimo muoio E' l'eyes E' l'eyes Si ma infatti Facciamo questo poi questo Ragazzi da quel che mi ricordo Se non c'era un R3 Non prendi la Le skin Ci è rimasta male l'eyes Visto che non c'è più red Tornata indietro Si non sono sicuro Mi pareva di aver letto Quando hanno messo Il nuovo honor Io ho visto che arrivavano dei rewards Ma non ho idea Non so se erano rewards aggiuntive O solo Boh non lo so Non ti ganko perché c'è l'eyes Qua potrebbe counter gankare Nami non ha le pozioni Interessante Non che le servano tanto Non c'è tanto di domande E' un end Dodgia tutto Mamma mia Gli script possono accompagnare solo Ho usato Ho usato l'ignite Anziché il flash per scappare Ha funzionato Non ho nemmeno flashato Ho usato l'ignite però Eh si sa che è una nota Abilità difensiva Oh si sa funzionato Ma Elise vorrà rubarmi il mio di red Come minimo Le ho rubato red ai golem Che dice E' vero sicuramente Ma si vendica Oppure va botlin Confermate niente Niente skin Avevo ragione E' qua Elise E' qua Ah Sul mio smurf Non avrò niente Allora Bel flash Elise Complimenti Regà ma che trick l'ho fatto L'invisibilità Proprio dovrebbe Dove avrebbe saltato C'è parliamone Parliamone Regà Solo per questo dovrebbero darmi Rewards di fine season Altro che Molto bravi in botlin Double kill No ragazzi No ragazzi Hello hello Vabbè Guardate che bot c'è mister tag buffu Ah e' vero che c'è buffu in botlin Regà noi abbiamo buffu in botlin Lì c'è la ice Kent ho vista E' la ice vuole vendicarsi a tutti i costi Proprio incazzata Eccola qua Kent avevo vista Passata dalla box Ah non lo sapeva che c'era la box E' vero Che skin danno quest'anno Non ne ho idea Non si sa E non lo saprete ancora per un mesetto penso Ai 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 Ragazzi come start Direi niente male C'ho due kill Ho counter junglato Sono molto più avanti Delle ice Cerchiamo di mantenere questo vantaggio Adesso potrei fare No qua scarpe magic resist tutta la vita Facciamo questo Prendiamo subito dalla magic resist Poi ci andiamo a fare questi Livello 6 E posso provare a gankare mid Visto che abbiamo any E nessuno dei due è ancora andato back Se arriva back adesso deve andarci anche any assolutamente Il fatto che any da sola non penso Cioè non penso Se non riesce ad accedere Ari perché può scappare Però se stun Con la ult Beh guarda che è il primo counter appunto Per quel No lo so però Magari Riesce a vincere i trade Ma non effettivamente a chiudere la kill Con te che ganchi magari Come che gancho o la chiude come la kill? Esatto La chiudo io Pfff Chissà cosa Il panzone Ecco qua Vediamo un po' Elyse dov'è Elyse Eccola Purtroppo non posso far nulla perchè c'è Ari Eh ho visto ho visto A sbaglio i danni di base di Gragas sono eccezionalmente elevati Flesciato Qui Perciò Certo Certo Cominati Qui Elyse Certo Quasi Cominati Cominati Certo Certo Come Uh Peccato, niente double Eh, non potevo seguire perché non avevo mana Vabbè, a posto Bravissima, complimenti Come al solito Dai dimostrazioni di essere un good player La bot come ha messo è sempre male Uh, gliel'avrei dovuta push No, è la wave del carretto Vabbè È messa male la botlin? Sempre la pushate Purtroppo c'hanno la bot troppo difensiva l'ora, quindi Non lo so ragazzi che rumore fa il ping Io non ho mai tenuto l'alerta Cioè il volume dei ping non ho mai messo Quindi È un po' fortino però È giusto Secondo me Ti avviso subito che lì è guardato E che non ci deve andare Non lo so, io non tengo proprio l'audio dei ping Mi frego un cazzo Tanto c'ho la chat di fianco E la leggo bene Mi dispiace È un lucky Che gli dico a questi? Eh se c'è Gagas non gli dico nulla Ho presciato quella adesso No, è vale La difendiamo Aspetta un attimo Ok Mi ha spinto via Io devo beccare purtroppo Vabbè Eh chiedono di difendere ovunque Io devo andare a beccare ragazzi Non so come dirvelo Tutti hanno bisogno di essere difesi qua Io sono già full magic resist No, stavolta creepy Mi dispiace No, invece no È schifosamente tankoso Ottimo exhaust Bravissima Nami Cosa mi aspettava? Che la one shotassi No, capito? Mi ha tirato l'exhaust così Mamma mia che BM Guarda che recogli Gli fai Preso anche il drake Ma non potrò fa nulla Purtroppo la botlin Non ha pressure La nostra botlin Che è che è twitch Quindi Non è che mi preoccupo tanto Ma perché non gliel'ho doggiata? Ma perché non gliel'ho doggiata? Vabbè Perché non l'ha bloccato quella? Ho anche piazzato il knight Non l'ho visto Si ha flashato Sinceramente Dopo mille secondi C'era che si attivasse il proc del fear Ha flashato via Boh c'hanno sempre le summoner Ti giuro Sta botlin qua Non è che mi piaccia tanto C'è una control qua? No Ma è un buffo Rick Ma è vero che sono in bot con il buffo C'abbiamo il support che è buffo Ragazzi la botta è che non ha per forza Però Che sono molto tankosi Molto Sono morto Che hanno molta vita Si conviene Non sono morto Sei vivo My god Mr.Danny Grazie mille Però per il sub E Benvenuto Tra gli abbonati Del mio canale Come va? Ok La vediamo un po' Proprio sono l'endificio da gankare Ah ma poi ha flashato senza nemmeno lo stun Esatto Vabbè Annie Ok Va bene Facciamo finta di niente Facciamo proprio finta di niente Flashen tutti qua Ma che cazzo è? Ma mi inseguono come si potete Crepa Oh ma E che abbiamo solo noi le kill Come al solito Letteramente Solo Annie ne ha una Non so cosa dire Maury Mi dispiace Non trovi l'emoji Refresh il browser Pagine No c'è il teleport Non so davvero cosa fare La bide di Gragas Eh l'ho visto Ma tanto lui non deve fare un cazzo C'è il resto del team Tristana 3-1 Fiddare Guarda quanto farm ha Tristana Quasi come te Tristana will be so strong now Grazie Non è mai che ce l'hai detto Altrimenti guarda Non ce ne accorgiamo No Questi Prendete il fira Coglione Eh maury dovevi chiamarlo Cazzo Sento solo che rimanessero Adesso sono cazzo tuoi Ma tu sei maury Quindi Non hai power di nulla Infatti non muoio Il dux non muore Il dux me è lux Madonna Gli altri si invece Niente Che team Oh non si riesce a vincere Proprio So C'è davvero i miracoli Sono 5-0 Guarda Twitch Cazzo di scandal Stai lì Stai lì Stai lì Stai lì Grazie Noi siamo down Invece Loro sono down Allora top Maury Eh glielo lasciamo loro Che gli devo dire Non c'è più il team È sparito in una tragedia Non so È affondata la nave Non so che dire Schettino 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 ragazzi Che diciamo Il Drake is up Eh Quindi Lo prendiamo a son di bestemmie Non lo so Lo sti lì L'unica possibilità Rick Maury Tiraci la sfera Fagli l'onda energetica Onda Maury Che cos'era Questo è uno scandalo Umano No No Non si salva Così Non si salva Così Tu devi fidarti di me Maury Cazzo Ti fidi ancora di me Maury Ti fidi ancora Ti fidi ancora Sì No È l'uncidere Sei uno Cazzo Eh la Thomas Annie has to farm È vero Annie ha Di avere 87 CS Con Annie A meno farm di me Come? Non lo so Non me lo chiedere Io so soltanto che sono disperato Davvero Non so più cosa fare Non so cosa Non ho ancora un item chiuso Per dirti Per quante cose mi serve Buildarmi Per fare A parte quella Abbiamo 11 kill Su 14 In due L'unico è Twitch Che può fare qualcosa Late game Annie Annie potrebbe fare qualcosa Però è troppo addormentato Non si sveglia Tanto alla fine Annie cosa deve fare Flash ulti Con lo stun Eh ma non hai danni Che fare Vabbè sti cazzi Già se stunna qualcuno È qualcosa Sto raccane è un buffo Letteralmente Proprio un buffo C'ha buffo nel tag E buffo è No ulti Nami Si Nami Tristan Qua c'è Gragas Puoi prendermi il trinché trusso io Occhio occhio C'è Gragas qua Ora vado di Malmortius Ma è tu top? Si si Che fatica Il modo migliore per vincere questa partita È piccare nemici Uh sta arrivando Tristana E Gragas Ok Gragas è per i cazzi sono Nessuno mai ha fatto sto granchio Ottimo L'attriti dovrei avere 1383 Esatto Non c'è neanche bisogno che tipi ci arriva Anzi se Tristana sta lì sono i cazzi suoi Ma tanti i cazzi suoi No maori no non me lo dire Nei Non lo prendo guarda Vabbè So che non prendi nemmeno lui Uh invece Ah si E' morto lo stesso Minch io ci ho sperato in quella sfera Era double kill E io non ci morivo Però vabbè Almeno c'ho l'attriti così Eh c'è dai Il ponzone in mezzo Che ha bloccato tutte le dalle Poi era lì che aspettava Gragas C'era stava lì fermo Tipo palo della luce Io l'ho ingaggiato lo stesso Perché non volevo perdere la torre Sapero che stavi arrivando Altrimenti Non mi sarei andato a suicidare Vabbè che tanto lo Shaddam L'avevo già preso quindi Io adesso do botte E splitto botte tutto il tempo Se Twitch sta lì A fare non si sa cosa Però statene lì E non rompere il cazzo Faccio capire che ci vado io botte Ciao mate La botte Ma se la fa più spesso Maury eh La botte Eh Fidatevi Botte più black cleaver Perché workano benissimo insieme La build anti-tank per eccellenza Look behind you An enemy has been slain Godlike Here we go Rampage Gragas Potrebbe arrivare di Gragas Perché non Per sciogliere i tank Senza perdere vita E sustainandovi Fatevi BC E botte Esatto Non chiedete Sappiatele E basta Esatto L'importante è che eseguite La letality non serve Perché tanto Non hanno Non sono Legli ad carry Praticamente Tristana si ok Ma gli altri no Si fanno tanta arma E un po' di letality Non basta Drake Ok dai Sto facendo anche la mercurial Per Aria Sto arrivando Molto lentamente Si sono buttati in mezzo così Contentati di vedere la coppia Olè la coppia Che fa sempre il suo lavoro Quanto cazzo adoro la coppia La coppia di Shako ragazzi È il mio migliore amico Alla fine Come al solito Ci ritroviamo a carriera Questa partita Esatto Nulla di nuovo Anzi non mi sto bilanando D'Assassin Perché quella build D'Assassin È un po' troppo squishy E visto che Non posso assassinare Nessuno dei nemici Voglio solo restare in vita Non mi buildo Letality Non mi buildo tank Ma neanche Assassin Esatto Ah però Comunque Mi fa di danni Enni Riendo scherzando Ludens Protobelt Sarebbe anche ora Effettivamente Facesse dei danni O meglio che facesse qualcosa Quindi danni Che sta combinando Ste monkeys qua Ho visto il laser Che è rimasto con un po' di HP Ma non so dove è adesso Sì Maury Mamma mia La snipe però Sì Io tipo Li abbiamo smezzati tutti Rakan Ho il blu Posso il blu Oh sì Eh Eh maledetto Too late Non devo morire Tanto verrà in su di me Adesso Gliela sto pushando La T2 L'ho vista Tristana L'ho vista E' che c'è la QSS Aria in tira Non c'è la Ud Non so dirti con quanto Sicurezza Mi bisogna più focus In realtà L'ho tutta bene Cazzo E non ci fosse stata Ari Me la facevo 1v1 Perché era sulla box Vabbè dai E io cerco di mettere più pressure possibile Cerco quello Adesso mi devo fare un run doing per Tristana Perché è veramente fiddato Tanto di Magic Resist No anche troppo Twitch è un po' addormentato Ma si sta accorgendo del fight Io poi devo fare Poi ho ultato alla fine Twitch Ho ultato gli ultimi 2 out attack Ma cosa fa? Gioca in modo un po' Guardato lo shutdown Ma vabbè Vabbè Era un 9.05 Twitch è un po' È un po' ambiguo Il modo in cui gioca Sto Twitch T2 bot Vabbè Non è che mi è cambiato molto Buona sapersi comunque Io lo dovrei splittare Perché sono Pensi fa tirando in No non me lo faccio Mi serve danno adesso Ho già troppo item Difensivi Te virgolette Ora mi farei un Vediamo Contro Tristana Sperando che non sia Guardato L'ha appena messo Con tutti i dateri Tutti Molto bravi ragazzi Io sono botto Intanto Nooo Pensavo prendesse la box Vabbè Olè Gli ho preso la T2 così Che la butti Anch'io Che si rimangono La prendo anche da base No no Mo' beccano Non penso di poterglielo impedire Quindi Tristana è qua Tristana è quella che mi preoccupa Più di tanto Quindi Continua Ah sono tutti qua Contro in base Vabbè vabbè Continua Continua Avete Vito il fight Perché non c'è Ari Esatto Che trick è Fanculo Occhio che manca Anche Nami Potrebbe arrivare qualcuno Hai crashato Ari Non ha male No Ho fatto anche troppo Dove ho premuto Ho premuto sulla minimapa Mi ha spostato Mi sono uscito Prendendo la T2 senza minion Arrivendo e scherzando Che fatica Mauri ste partite qua Si può fare Certo si può fare Si può fare come Ok Twitch sta prendendo quello Lì c'è l'Aize che ha avuto a che fare con la mia box C'è C'è l'inibito Rope e ne continuo botto Anzi vado a mid Vedrò rimangono alla top Ma non fanno un cazzo Top tranquillo No dovevo mettere la ward Quella dovevo fare Per splittare Cioè per Beh Ho dimenticato 2006 Randwin Penso di poterlo fare Tutto ad un colpo Devo farmare però Ad un attimo top Manca 400 gold Raga con la build Che ho non è facile Scoppiare la gente Con lo sciacco Della season 7 Cioè Dovrei farmi la La duskblade Per scoppiare la gente Cazzo vogliono Cosa devo farmi Il drill burn da solo Non ho capito Ma io la push Fino alla base Non fai Eh Non fai tate Ma tutto più c'è da solo Oddio se vincete il fight Abbiamo vinto Oh mio dio No Dragas maledetto No Grazie Rakan Sì abbiamo vinto Go 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 Donna che bestia Maori No te ne mette Il dux 12-2 Quella bot Vabbè il dux 12-2 Ragazzi JC's fed Guarda come te lo dicono Poi i fear Eh il buffo L'ha detto È il buffo Non ce la facciamo Infatti muoio anche Però va bene Che vuoi fare Tristana Che vuoi fare Guarda c'ho La gear E digli che rascino il baron Li rascio io Nel culo No 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 Redor time No Beh lo faccio io Come l'altra volta Al massimo tu Ma non Annie No Annie no Eh lei come voleva andare a farlo Ecco Allora potete andare a finire Guarda hai le poltronne Vorrei andare back io C'ho 3500 gold Risco di morire e basta Così Risco di morirci e basta Non ha senso Se ci fosse la ward C'è la ward La contra qua No no Dico in van Ah L'abbiamo vinto Guarda Tiro dritto C'è Gragas E Nami Che vengono Mamma mia Neanche i buffo Sono stati cariati Ah si Ah si Oppala Vai vai Gragas non viene Gragas sta qui Ecco fatto Mamma mia Mauri Queste sono le vittorie Che ci piacciono Chi è che nel team Ha preso S Noi due Oh guarda quanti Begliono Tristana was a joke Povera Povera Tristana Ho fatto anche tanti danni per essere giungla Ma quanto cazzo di f***o